Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritornati nel vostro giocatore, siamo tornati signori con un nuovo video Oggi ragazzi video importantissimo Cosa voglio parlarvi? Finalmente ragazzuoli farò per la primissima volta un mio evento tutto quanto personale E ragazzuoli ci sto dedicando tantissimo tempo, da un bel po' di tempo E sono orgoglioso appunto di annunciarvi finalmente la data ufficiale di questo evento Ci è stato dietro ragazzi, ci abbiamo messo tantissimo tempo a organizzarlo È un evento che appunto mi preme tanto, è un evento che ci tengo più di ogni altra cosa E spero vivamente di riuscire a derivare a un numero giusto di persone per dar via questo evento Ragazzi di cosa sto parlando? Come stai vedendo qua a fianco a me, anzi mi sposto un pochettino Qui a fianco a me ragazzi apparirà questa lungandina, si chiama Joker Fest, Fortnite, FIFA e FAN Ovviamente sono le tre cose che appunto racchiuderanno questo evento Come stare ben vedendo finalmente ci sarà anche il team JKR tutto quanto al completo Con Martex, Nico Inter e Ukalabers In più ci sarà come stare ben vedendo un ospite speciale che è Sodin Quindi ragazzuoli faremo questo evento, sono riuscito a raggruppare tutti quanti loro Sono veramente orgoglioso di questa cosa e sono emozionatissimo di portarvi questo evento Dove si terrà? Come? Quando? Che? Ora? E cosa faremo? Praticamente ragazzi è presso l'hotel Fujiterme Resort e Spa che si trova a Fuji Ok ragazzuoli? Il prezzo del biglietto come stare ben vedendo è di 10 euro a persona Ma ragazzi 10 euro per entrare e ci possiamo stradivertire un mondo Stiamo allestendo un palco enorme con 4 postazioni PC e delle postazioni console Per giocare appunto a Fortnite quindi io e il team JKR andremo a giocare a Fortnite sul palco Con maxi schermo con le 4 postazioni e stiamo facendo questa cosa fighissima E poi ragazzuoli c'è la possibilità appunto di giocare anche a FIFA con me e Sodin Quindi in questo caso andremo a creare anche dei mini tornei, dei mini eventi Quindi anche voi avrete tutti quanti l'opportunità di giocare con me o col team JKR insieme O comunque con Sodin quindi potete scegliere voi il gioco se FIFA o Fortnite Quello che più vi piace, vi appassiona Se volete fare un duo contro me e Sodin a FIFA giocheremo due contro due Quindi io e Sodin contro due persone prese dal pubblico Oppure potremmo giocare io e un altro ragazzo insieme a Sodin con un altro ragazzo Oppure ragazzi potrete scegliere voi se giocare con me, con Nico o con Martex Oppure giocate voi insieme a Martex, Nico e Calabres e io e Sodin Vi faremo da conduttori della partita Quindi potrebbe essere una cosa veramente strafichissima Sarà ovviamente delle partite che saranno online Tipo se fosse un live show appunto in questo caso E ragazzi è veramente una cosa fichissima Quindi ci sarà molto movimento, molta azione E potremmo giocare tutti quanti insieme Quindi anche voi ragazzi avete l'opportunità di giocare con me o col team JKR e anche con Sodin Quindi ci divertiremo un mondo Saremo tantissime persone Per il momento ragazzi anche in questo precisissimo momento I biglietti già si possono acquistare anche online Non ci sarà un sito ma come facciamo ragazzi Per semplificare anche le cose E per appunto eventualmente se non raggiungiamo la soia minimo di 500 persone In questo evento verrà rimandato Ma ragazzi ovviamente io sono fiducioso di voi Mi fido tantissimo anche del mio team che appunto De JKR mi fido anche tantissimo di Sodin E quindi stiamo cercando di creare una cosa veramente epica Io sono emozionato, voglio dirvi 3.000 cose insieme Sono agitatissimo per questo evento Allora vi spiego velocemente ragazzi Si terrà il 3, o dove vai? Si terrà il 30 giugno Questo 30 giugno ragazzi 2019 specifico, non si sa mai Dalle ore 12 alle ore 17 Ma potrebbe anche essere dalle ore 12 alle 18 Ragazzi non è un problema Comunque l'orario sarà questo qua Si chiamerà Jokerfest appunto dove giocheremo a FIFA Fortnite e ci sarete voi fan ovviamente insieme a noi Ci sarà anche una mappa come sta vedendo dalla locandina Ma tanto in descrizione vi lascerò tutte quante le informazioni Per arrivare anche con i treni Quindi da Roma termini alla stazione Dalla stazione arrivare a Fiugi Oppure con la macchina ragazzi Per chi è di Roma con 40 minuti facilissimi Ci si arriva in un modo semplicissimo Potete arrivare da qualsiasi altra parte d'Italia Se volete divertirvi con noi ragazzi Passiamo una giornata fantastica Il prezzo di biglietto è 10 euro Per partecipare a questo evento Poi ragazzi dentro ovviamente Oltre alla possibilità di vedere me insieme ai ragazzi Giocare o giocare con voi anche in primis Abbiamo La abbiamo Stiamo mettendo comunque c'è anche la possibilità di mangiare Ok ragazzi quindi Faremo panini con salsiccia Panini con hamburger Bibide Gelati Ci sarà di tutto e di più ragazzuoli Quindi per entrare costa 10 euro Poi il cibo ragazzi è una spesa che verrà affrontata a parte Ma vi posso garantire e assicurare che Ci ho messo io la faccia ragazzi per quanto riguarda il cibo Quindi ho scelto io le pietanze Che appunto quindi ho scelto io la qualità delle salsicce Ho scelto io la qualità degli hamburger E dei panini Quindi sarà tutto quanto ragazzi Diciamo mia responsabilità del cibo Che appunto andrò a servire appunto Nella location per l'evento Ma vi posso assicurare al 100% Che è qualcosa di spettacolare E poi ragazzi ovviamente ci saranno appunto Gelati in bibita come già vi ho detto Questo sarà tutto a pagamento a parte Ma ragazzi i prezzi che appunto ho deciso io Insieme agli organizzatori Ho detto ragazzi dobbiamo fare una cosa molto agibile a tutti quanti Quindi i panini costranno molto poco Anche le bibite Quindi tranquillissime ragazzi Ma la qualità è spettacolare La location è molto bella È molto grande Però appunto ha allestito un palco Con tanto un impianto Console Ragazzi qualcosa di assurdo Se tutto va bene Stiamo anche allestendo Vediamo un attimino Un toro meccanico Che appunto potremo farci delle sfide Delle challenge Tutti insieme Dove si vinceranno anche dei premi Ci sarà anche una riffa Diciamo dove appunto Ci saranno dei biglietti Che appunto uno può acquistare E metteremo in paglio Console Xbox One Nuovissima ragazzi Metteremo in paglio Le magliette Le tazze Ci sarà anche il mio shop Quindi di magliette Tazze e portagliavi All'evento Quindi per chi vuole ragazzi Sono rimasti gli ultimi pezzi Delle mie maglie Ufficiali Del canale Quindi sono tipo Tre tipi di maglie Se non sbaglio Ci saranno le tazze E i portagliavi Questa qua Li trovate Sono le ultime Che trovate solamente a questo evento Poi non ci saranno più Perché poi Cercherò di cambiare Tutto quanto Il mio merchandising di roba In più ragazzi Cosa abbiamo deciso Io e gli organizzatori Per tutti quanti Anche i genitori Che verranno a questo evento Ovviamente anche loro Dovranno avere La possibilità Di usufruire qualcosa Quindi questo hotel Un hotel veramente Molto bello ragazzi Con la spa Un resort veramente bellissimo Abbiamo deciso Di dare un 20% Di sconto Su tutto quanto Quello che vorreste utilizzare Nell'hotel Quindi ci sta la sauna Ci sta appunto La spa in generale Chi vuole pernotare Lì all'hotel Può farlo ragazzi Perché l'evento Sarà prevente dentro L'hotel C'è l'hotel C'è tutto il giardino fuori E lì noi faremo Questo grandissimo evento Quindi per tutti i genitori Che vengono da fuori Venti da Napoli Da Milano Dalla Sicilia Dalla Sardegna Dalla Calabria Da dove volete voi C'è la possibilità Tranquillamente di pernotare Nell'hotel E vuole direttamente E vuole direttamente Quindi sia per l'acquisto Diretto a Roma Ossia per l'acquisto Online Praticamente voi Verserete un importo Di che ne so Siete 5 persone Verserete un importo Di 50 euro Con nome e cognome Di chi siete appunto All'evento Anche tramite telefonicamente Basta lo dire Ho fatto il versamento Di 50 euro Sono Giovanna Flanconi Andremo ovviamente A constatare l'importo E segneremo tutti quanti I nomi Quindi che ne so 5 persone Metteremo questi 5 braccialetti Appena faremo l'evento Vi presentate lì Noi abbiamo una lista Per chi ha acquistato online Se risultate Vi diamo i braccialetti E potete entrare tranquillamente Quindi ragazzi È facilissimo Attanto tutte quante le informazioni Le trovate con questo numero Mentre se volete altre informazioni All'hotel Per per notare la camera Per qualsiasi cosa Il numero è questo qua 077551 5212 Ok ragazzi Voi basta che chiamate Dite sto chiamando Per l'evento di Joker Mi serve una stanza familiare Mi serve una 4 Una doppia Una tripla E ovviamente avrete Il 20% di sconto Su tutta quanta Il pernottamento Per voi Per la famiglia Quindi stiamo facendo Appunto questa cosa Anche più Per agevolare tutti quanti Quindi niente ragazzi Poi per arrivare Ovviamente c'è Da Roma Termini Potete tranquillamente Arrivare alla Fiogistazione Cioè ci sono Miliardi di modi Per avere questo evento Molto semplici Che appunto poi Potete tranquillamente Basta scrivete Su Google Maps Da dove siete voi Hotel Fugiterme Vi asce fuori Vi dirà come arrivare Senza problemi Però le informazioni Vi lascio anche Comunque in descrizione Qua sotto nel video Quindi che dire ragazzi Mi sono dilungato tanto Lo so Tutte le informazioni Che vi servono Basta che chiamate Quel numero Che vi ho detto Vi rivedo Il 3274423836 Vi sapranno dire Tutte le info Che vi possono servire Per acquistare i bietti A Roma Per acquistare i bietti Anche online Mi raccomando ragazzi Niente Io spero che questa iniziativa Vi piaccia Io sono emozionatissimo Perché appunto È il mio primissimo evento Che sto organizzando da solo Ho voluto comunque Mettere in mezzo Anche il mio team JKR Quindi è una sorpresa Anche per tutti quanti voi Perché ultimamente Come ben sapete Non stiamo più giocando insieme Ma c'era sotto qualcosina Quindi spero questa cosa Vi faccia piacere Se potete venire a incontrare Me Martex Nico Calabres Anche Sodin ragazzi Quindi stiamo facendo Una cosa veramente All'ingrande Proprio all'ingrosso In maniere Sproporzionate Io sono contentissimo ragazzi Quindi per tutti quelli Che poi acquisteranno Il braccialetto ragazzi Direttamente a Roma O direttamente online Non lo so Se volete fare una piccola Stories con il braccialetto In mano Quindi questi qua Sono per appunto Le persone che verranno Direttamente a Roma Ad acquistare questi bietti Fate delle stories Sono delle foto Mi taggate su Instagram Così vi posso anche ripostare Se volete Se vi fa piacere Mi raccomando ragazzi Il tempo è breve Spargete voce Con tutti i vostri amici Famigliari Parenti Costringeteli Il 30 giugno Dalle ore 12 Alle ore 17 Presto l'hotel Fiuggi Terme Resort e Spa A Fiuggi ovviamente Faremo questo evento Il Joker Fest Fortnite FIFA E Fun Ci sarà la possibilità Di vincere i premi Troverete appunto Il mio shop personale Troverete la possibilità Di farci una foto Un abbraccio Di mangiare insieme Anche ragazzi Perché mangeremo Tutti insieme Ci sarà musica Divertimento Ci saranno Tantissime cose Quindi ragazzi Non voglio dilungarmi troppo Vi ripeto Per tutte le informazioni Trovate il numero di telefono Prezzo il bieto 10 euro Adesso sta a voi ragazzi Vi aspettiamo Tutti quanti A braccia aperte A questo evento Il primissimo evento Di Joker Qui insieme Ovviamente A voi E altri miei colleghi Amici youtubers Quindi ragazzi Niente Spero questo video Ovviamente vi sia piaciuto Mi raccomando Vi invito a lasciare anche Tanti like Scrivetevi sotto Nei commenti Chi secondo voi Potrebbe venire Questo giorno Il 30 giugno 2019 Quindi mi raccomando Vi aspettiamo E niente ragazzi Adesso tocca a voi Mi raccomando Spargete voce ovunque E vi aspettiamo In questo fantastico evento Il Joker Fest Quindi spero che anche voi ragazzi Apprezzate questa cosa Mi raccomando Vi aspettiamo Un bacione a tutti Grandissimo Ciao belle mia